Ho finito di costruire tutti i regali di Natale che mi avete chiesto negli scorsi video. Maglia della Juve? Fatta. Maglia del Pisa? Fatta. Il sogno di un pisano è... Macchina gialla? Fatta. FIFA 24? Fatto. Funko Pop di Spider-Man? Fatto. Un cuore? Fatto. Controller della Wii? Fatto. Vi ringrazio di tutti i commenti che mi avete lasciato. Non dimenticate di iscrivervi e finito questo progetto ne inizierò un altro ancora più grande. Vuoi sapere qual è? Vi aspetto in live.